Vi diamo il benvenuto alla Notte degli Archivi dell'Archivio di Stato di Forlì e Cesena. Quest'anno, con il video che vi proponiamo, vogliamo dedicare un omaggio a un illustre appassionato forlivese, scienziato, medico, storico, erudito, letterato, Giovanni Attista Morgani, il principe degli anatomici, come è stato definito, anche sul sepolcro fatto realizzare da uno dei suoi figli che non ha mai ospitato le sue spoglie e del quale restano solo un medaglione dei putti a seguito di danni bellici. Tanti sono i documenti d'archivio che ci raccontano di lui e di come la città di Forlì nel corso dei secoli lo abbia voluto ricordare e onorare. Li vedrete scorrere, mentre tenteremo di illustrarvi brevemente la figura di Giovanni Battista Morgani, attraverso le passioni che hanno animato la sua vita personale e professionale e con un cenno alle onoranze a lui tributate dalla sua città natale tra XVIII e XX secolo. Giovanni Battista Morgani nasce il 25 febbraio 1682 a Forlì, in un edificio oggi purtroppo non più esistente, dove nel 1873 era stata posta una lapide in sua memoria modificando il nome della via in Morgani. Il padre Fabrizio è un signore benestante, come pure di buona famiglia la madre Maria Tornielli. Studia a Forlì, dove a 14 anni entra a far parte dell'Accademia dei Filergiti, fino a quando, nel 1698, si trasferisce a Bologna per frequentare la facoltà di medicina. A 19 anni Morgani si laurea in medicina e filosofia. Negli anni bolognesi si dedica agli studi anatomici, seguendo soprattutto l'attività medica e chirurgica di Valsalva, che aiuta nel teatro anatomico di Bologna e del quale diventa l'allievo prediletto. Nel 1706 sostituisce proprio Valsalva nell'insegnamento. Lo stesso anno pubblica il primo degli avversari anatomica, completato in sei volumi nel 1719. Si trasferisce quindi a Venezia fino al 1709, spinto dalle invidie e dalle inimicizie suscitate nell'ambiente bolognese. Da lì prende i primi contatti con l'Università di Padova e i suoi docenti, con diversi dei quali stringe amicizia, come Antonio Vallisneri. Nel 1709 rientra a Forlì per questioni familiari e vi resta per tre anni, svolgendo la professione medica. Questo triennio ha un'importanza decisiva per la maturazione del suo pensiero clinico, per il quale si può riconoscere la sede e la causa di una malattia solo quando si riescono a individuare i sintomi, che corrispondono al peculiare danno anatomico indotto dalla malattia stessa. Nel 1715 assume a Padova la cattedra di anatomia, incarico che mantiene fino alla morte. Nel 1712 sposa la nobile forlivese Paola Verzeri. Dal matrimonio nascono a Padova 15 figli, dei quali quattro vivono solo pochi giorni e uno muore a due anni. Gli altri dieci, otto femmine e due maschi, sopravvivono tutti, meno uno, Fabrizio e genitori. Le otto femmine abbracciano la vita monastica. Nominato preside dello studio di Padova, nel 1724 è socio del Reale Istituto di Londra, poi dell'Accademia delle Scienze di Parigi, dell'Imperiale di Pietroburgo e dell'Accademia Reale di Berlino. Nel 1761 pubblica il lavoro di straordinaria erudizione e di grande successo, anche internazionale, De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis, composto di 70 epistole. Con lettera del 16 ottobre 1762, Morgagni dedica ai signori gonfalonieri e conservatori di Forlì le 14 epistole emiliane, lettere storico-critiche, cosiddette emiliane, non solo perché la maggior parte furono già scritte nell'Emilia, ma anche perché tutte si riferiscono all'antichità e alla geografia di non piccola parte di questa provincia. La moglie muore a Padova il 2 settembre 1770, Morgagni si spegne il 5 dicembre 1771, quasi novantenne. Entrambi vengono sepolti a Padova, in San Massimo. Ma come viene descritto Morgagni? Il suo volto, bello e giuviale, conservò buon colorito sino all'estremità. Aveva gli occhi azzurri, ottima vista anche da vecchio, e nell'età più bella era provveduto di folti biondi capelli. Modesti e bontà furono le doti predominanti dell'animo suo nobilissimo, alieno dai contrasti, molto delicato e incline alla riconoscenza. Uomo sinceramente religioso, era amante della libertà di pensiero, mostrandosi in ciò notevolmente affine al Galilei. Era dotato di straordinario intuito. Aggiungiamo che era un profondo e pazientissimo osservatore e che la sua costanza nello studio era insuperabile, ma la sua sana costituzione, favorita da perenne moderazione, gli consentì di vivere a lungo e di conservare sino all'ultimo istante la massima serenità spirituale. Bello della persona, a grande statura, d'incedere piacevolmente maestoso, sano, robusto, longevo, di rara, felicissima memoria, ma è sempre molto ed universalmente onorato, dai discepoli retribuito con perenne affettuosa venerazione. A prova dei suoi studi restano quaderni interi e carte sciolte e rovesci di lettere, tutti in quel fittissimo e minutissimo suo carattere e la sua ricchissima biblioteca, composta da circa 5.000 unità tra volume e dopuscoli, formata per due terzi circa da opere di medicina, anatomia, chirurgia e fisiologia e per il resto da libri di varia erudizione acquisita dalla biblioteca universitaria di Padova. Impossibile per i forlivesi non celebrare questo incredibile personaggio, ma in che modi? In questa sede possiamo citarne solo alcuni dei tantissimi documentati e in alcuni casi anche non realizzati, invitando alla consultazione diretta delle carte chi ne avesse maggiore curiosità. Ancora lui vivente gli viene dedicato un busto sopra la porta d'ingresso della sala grande del palazzo municipale, come testimonia la lettera dei conservatori del 30 maggio 1763 indirettata a Morgagni, nella quale lo si informava della risoluzione di fare per ora alzare nella pubblica nuova sala il delay busto a memoria, affinché i viventi e i posteri conoscano l'alta stima che dobbiamo al delay merito e si accendano a labore della virtù. Al 1857 è data il primo progetto del monumento, realizzato dopo alterne vicende dallo scultore Salvino Salvini e solenemente inaugurato il 27 maggio 1875, come viene accuratamente descritto dalle carte e da una pubblicazione a cura del comune di Forlì. Già all'inizio del secolo successivo comincia a manifestarsi il desiderio di traslare il monumento a Morgagni dal quartile del Palazzo degli Studi, dove era stato posizionato, in un luogo più esposto all'ammirazione del pubblico e nel 1921 è la prima idea di intitolargli l'ospedale civile, in quel momento dedicato a Aurelio Saffi, dato che la piazza cittadina ne avrebbe preso il nome. L'ipotesi relative a dove posizionare la statua, così come le modalità con cui attuare la traslazione e festeggiamenti relativi, riempiono molte carte d'archivio tra il 1925 e il 1928 e ancora fino al 1931, anno finale di realizzazione della giornata morganiana il 24 maggio, accuratamente è descritta anche in questo caso in una pubblicazione comunale e in ben quattro buste del carteggio comunale, che ne illustrano tutti i vari aspetti. Tra questi l'organizzazione di congressi medici, spettacoli teatrali e iniziative editoriali, come la ristampa del testo latino, delle lettere mediane e della loro traduzione in italiano e la pubblicazione dei consulti medici di Giambattista Morgagni nell'ambito della collana dei classici italiani della medicina, poco dopo le onoranze del 1931. Altre sarebbero le celebrazioni da ricordare fino a giungere ai tempi più recenti, con l'organizzazione di un convegno medico nel 2015 e il restauro del monumento a lui dedicato nel 2011, occasione nel quale ho incontrato, per così dire, per la prima volta Morgagni. Concludo quindi questa rapida carrellata con una notazione personale in tema di passioni. Il mio incontro con Giovanni Battista Morgagni risale appunto al 2011, all'epoca del restauro della statua che lo raffigura, quando ero ancora dipendente dell'allora soprintendenza per i beni architettonici paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlicesene e Rimini, e collaborai alla ricerca di materiale utile alla stesura del volume edito a lavori ultimati. Poi, una volta trasferita presso l'archivio di stato di Forlicesena, nella sede di Forlì, nel 2014, mi capitò di imbattermi quasi subito all'interno di uno dei depositi dell'archivio nelle quattro buste del fondo archivistico comune di Forlì Moderno, incentrate sulle onoranze morganiale del 1931. La coincidenza non mi parve tale da essere ignorata, tanto che dedicai la mia tesi di laurea proprio a lui.